Ecco, sempre qua su YouTube, Veronica Rossi, mi raccomando iscrivetevi al canale gratis. Questa è la nostra amica Yvette, bellissima capoverdiana e avrò un sacco di visualizzazione naturalmente sul mio canale. Guardate come aspetta il pane, veramente. E direi che è una baguette, è una baguette francese. Sì, è una baguette francese affettata da una capoverdiana e abbiamo il nostro cuoco Maurizio Cologi, per non fare né nomi né cognomi, e io sono la fagnentista. Non faccio niente in realtà. Allora, buona serata, oggi è il 15 settembre 2022. Ciao!